Un calendario unico per promuovere al meglio le numerose iniziative di musica, spettacolo, teatro, arte e cinema presenti nei comuni di Teramo a Trennereto. La fondazione Tercas continua nella sua campagna di promozione culturale e lo fa partendo dai tre comuni costituenti della Cassa di Risparmio della provincia di Teramo, ora Banca Tercas. Un'idea che nasce dal sindaco di Teramo insieme alla fondazione, insieme anche alla regione Abruzzo e che poi ha subito un'evoluzione. Perché la novità di quest'anno è che sarà un cartellone su area vasta, è un termine che si usa in pianificazione strategica, nel senso che il cartellone quest'anno prevede gli eventi che si svolgeranno anche nel comune di Atre e nel comune di Nereto. Quindi presentiamo questo nuovo cartellone, che è un cartellone ad ampio respiro perché bisogna uscire anche al di fuori un po' di quelli che è la municipalità. In previsione c'è quello anche nel futuro prossimo, quindi nel prossimo anno, quello di allargare ancora di più. Credo che la cultura sia il primo, come dire, il motore di tutte quelle che sono le attività che si svolgono all'interno di una città. Un progetto di lungo termine che consente di programmare meglio l'attività nel tempo, non correndo presso al finanziamento all'ultimo momento e anno per anno. E dall'altro concorrendo a creare un po' di concorrenza sul tema della qualità fra le manifestazioni che si svolgono perché essere all'interno del cartellone è un marchio di qualità della produzione che dà una serie di vantaggi. Questo consente anche una migliore programmazione territoriale degli eventi perché la creazione del cartellone unico consente di evitare, come in passato qualche volta è avvenuta, delle concentrazioni di attività o negli stessi luoghi o nello stesso tempo. E quindi di dare una migliore organizzazione e più continuità all'attività di tutti, anche più soddisfazione all'attività di tutti. Grazie a tutti.